Io ho fatto una riflessione in aula, ho parlato di due argomenti che secondo me dovrebbero essere attenzionati con priorità, che uno è per quanto riguarda la differenza di quello che dovrebbero essere le banche sul territorio nazionale e cominciare anche a riflettere su quello che è una modifica che viene applicata all'interno dello statuto e all'interno dei nostri punti di riferimento, all'interno degli altri paesi, il famoso ricollo.